Scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Caltanissetta per porto di armi ed oggetti atti ad offendere nei confronti di un uomo. Tutto ha avuto inizio nella notte, erano due gli uomini sospetti a bordo di un'auto che si aggiravano tra i condomini dei quartieri periferici della città. A fermarli durante i servizi di controllo del territorio sono stati i poliziotti della sezione volanti. I due uomini già gravati da pregiudizi di polizia sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale del mezzo e così gli agenti della polizia di stato hanno trovato al conducente un coltello a serramanico nascosto sotto il sedile dell'auto ed è scattata la denuncia.